E' un'azione dimostrativa che ha il valore di togliere dalla insensibilità un argomento di questa portata che toglie bellezza ai fiumi, bellezza al mare e pone anche costi straordinari nei momenti eccezionali. Per cui era ed è necessario non solo fare ciò che è dovuto ma è necessario anche ripristinare una condizione di moralizzazione collettiva che riguarda gli amministratori pubblici ma riguarda anche gli imprenditori, la cittadinanza che deve quando sa contribuire a ricostruire le responsabilità. In questo caso per esempio abbiamo trovato tre scarichi abusivi che adesso abbiamo otturato con un sistema ad aria compressa che diffonderemo dovunque ci sono gli scarichi abusivi e poi ricostruiremo le responsabilità. Finisce qui? No. Noi vogliamo anche ripristinare una condizione di normalità anche dando luogo domani ad una rinaturalizzazione dal punto di vista della vita delle imprese che hanno incontrato negli anni passati queste difficoltà. Quello che è certo è che se non ci mettiamo insieme noi continueremo a fare lavori o a monte o a valle che poi puntualmente produrranno inquinamento, alti costi rispetto al mantenimento della bellezza e danneggiamento rispetto alle stagioni turistiche e anche costi elevatissimi rispetto alla straordinarietà di alcuni interventi di bonifica. Noi oggi abbiamo fatto una riunione e abbiamo puntualmente millimetricamente stabilito quando comincia ogni intervento dei 36 milioni di euro contrattualizzati per potenziare i depuratori dei comuni che operano lungo l'asta fluviale, i depuratori anche al servizio del sistema industriale ma abbiamo anche dichiarato guerra le cosiddette fosse IMOF che è un sistema di depurazione che si affida in termini rinunciatari alla natura. È un lavoro mai fatto nei decenni passati che noi vogliamo fare sapendo che c'è bisogno di risorse finanziarie ma non solo di risorse finanziarie, anche di una grande conoscenza puntuale del territorio e di un'appropriazione collettiva da parte di tutti i cittadini.